Ah buongiorno, oggi andiamo, si va a Bari, dobbiamo andare domani però domani piove, qui c'è Lorenzo, Lorenzo metti le scarpe e andiamo Niente speriamo, speriamo che andiamo a vedere Bari Vecchio, andiamo a vedere le signore di Bari Vecchio che fanno le orecchiette Siamo arrivati a Bari, adesso l'obiettivo è mangiare e andare a Bari Vecchio a vedere le signore di Bari Vecchio che fanno le orecchiette e quella è la svolta Siamo così a Bari, soltanto vedere le signore di Bari Vecchio e dopo 40 minuti siamo sempre qui a parcheggio perché la mamma non riesce a parcheggiare, a pagare il parcheggio Bene, bella, bella devo dire Bari, che sono usata nella casa, abbiamo vista tutta, bella, carina, interessante Molto caratteristica, carina, ci piace, questa è Bari Vecchio che la nostra guida ufficiale ci ha detto che in realtà fino a qualche anno fa non potevi entrare perché era mega malfamato E ora invece hanno messo a posto, è molto carina, molto carina Certo, ci abbiamo la calama Abbiamo preso la focaccia barese da Santa Teresa, come? Ci piace, ci piace, ci piace Prova Forza mila Forza mila Forza mila Ci stiamo avvicinando Verso la metà finale Verso la nostra preda Le vedo Eccole le vedo Sì 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 uomo Mamma No no di qua Tutto quello che ho visto i video su youtube è vero Si è avverato Esistono veramente Esistono Eccolo 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 Ok L'emozione è tanta forza Ho incontrato tanto che esiste veramente Esiste veramente Posso fare il video Però non tanto tempo che fa troppo caldo Fate poco il video e basta Giusto per non dirvi di no Che fa tanto caldo Tenervi avanti Allora Cioè non solo ho visto i signori di Bari vecchia Cioè ho pure Ci ho pure parlato Mi sono pure fatta il selfie E ho pure comprato Le orecchiette Quelle vere Cioè Non quelle Che mettono lì davanti Perché sono quelle finte In realtà ci ha detto Cioè si sono buone Però non sono quelle effettive Che fa proprio lei 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 Cioè Raga Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ho piaciuto Mi sono stati a parlare Ha detto aspetta Vi do quelle buone Che faccio io veramente Queste sono quelle finte E io tipo Oh mio Dio Oh mio Dio Poi gli ha fatto Possiamo farci una foto Le fa certo Abbiamo recuperato il bagnato Eccolo Ci abbiamo La toppa L'olcera E niente Il nostro gira per Bari Può essere Possiamo dire Che si conclude qui Allora Bari è le 8,50 5 E niente Carina Molto bella Bari vecchia Molto bella Miglior cosa Le signore Che fanno le vecchiette Le signore Di Bari vecchia E niente Ci sta Buonesto Buonesto